Buongiorno, nell'estate del 2022 ho avuto la fortuna di conoscere Franco Nasi, un brillantissimo traduttore, autore di Tradurre l'errore, laboratorio di pensiero critico e creativo per Quodlibet, Traduzioni estreme, sempre per Quodlibet, Specchi comunicanti, traduzioni, parodie e riscritture per Medusa, e scoprire a questa sua brillantissima conferenza che è niente meno che il traduttore di Billy Collins, uno dei poeti che più amo, fra l'altro si assomigliano come due voce d'acqua. Nel parlare è saltato fuori che ha tradotto anche Roger Metcalfe, difficilissimo da pronunciare, fra l'altro per Medusa La resa dei conti. Questo libro, La resa dei conti, uscito nel 21, di poesie veramente brillanti, ve ne leggo una, forse se riesco anche due. La prima è Consolati, questa è la disposizione del testo, non è la solita gestazione da parvenutacci della poesia centrata, è una poesia che è una specie di calligramma a suo modo, ricordo un po' l'uovo di simia nell'antologia greca, ma soprattutto è in qualche modo metalibraria e per questo si attaglia particolarmente a questa nostra occasione. Consolati con questo, hai un libro tra le mani, non una pistola carica o una multa per il vieto di sosta o un biglietto d'invito alle nozze di chi avresti dovuto sposare ma che sei stato troppo egoista per farlo e pensavi sempre che ce ne sarebbe stata un'altra migliore da qualche parte e invece non c'era, hai perso il tram e ora stai per arrivare ai 40 e quante sono le possibilità di trovare la compagna perfetta e imprendibile, pochissime, un bicchiere vuoto sul bancone di un bar, la solitudine ti chiama. Non un bicchiere vuoto o una bottiglia in frantumi sul bancone di un bar, una foto di chi ti pentirei per sempre di non aver sposato, non una lettera dall'ospedale, con i risultati devastanti e dopo il terribile disastro la polvere le grida e il braccio di un bimbo estratto dalle macerie, non una sola di queste cose, hai fra le mani, una silinga sporca o uno scorpione letale, una molotov o un'overdose, non una pistola carica o una multa, hai un libro fra le mani, consolati con questo. E nel consolarci con questo una poesia dopo meta libraria, meta poetica, si intitola Questa è una di quelle poesie. E perché si intitola così? Lo scopriamo subito. Questa è una di quelle poesie, titolo, il cui titolo è di fatto il verso di apertura. Quello che sembra il primo verso è in realtà il secondo. Non cogliere questo espediente letterario può far sì che il lettore, innervosito e confuso, abbandoni a metà e passi a un'altra poesia dal titolo più stuzzicante, oppure del più probabile lanci il libro per la stanza giurando di non leggere mai più poesia. La forza del titolo non deve mai essere sottovalutata. La carica della brigata leggera è un buon titolo, il naufragio del Deutschland è un altro, la beldamme San Marcy invece si dà delle arie. Ode a un'urna greca? Per molti versi non funziona, ma cioè a chi interessa? Se? E Kipling? Troppo epotetico. Per Shakespeare poi e i suoi sonnetti 33, 84, 116? Beh, è il massimo della pigrizia. Una poesia come estro, come capacità di guardare le cose da un nuovo punto di vista, in questo La resa dei conti, di Roger McDowell, tradotto per l'appunto da Franco Nasi per Medusa nel 2021. Grazie, alla prossima.